eccoci di nuovo a noi questa sera facciamo un interattivo particolare non ho mai fatto un interattivo come quello che sto per realizzare per voi utilizzeremo l'ultimo mazzetto di carte che ho acquistato oggi queste carte hanno praticamente eccoci qua questi due tipetti tanto simpatici un lui e una lei cosa facciamo andiamo ad individuare per due varianti una coppia karmica che avrà un amore importante o che ha avuto un amore importante ma non avrà anche un futuro proprio perché persone anime unite da molto tempo ora dire amore importante non vuol dire che sarà o è stato un amore felice facile gioioso o che le persone sono persone irreprensibili sotto tutti i punti di vista no semplicemente dalla dinamica che verrà fuori per le due varianti e prenderemo tre carte per lui tre carte per lei che serviranno per descrivere lui e descrivere lei andiamo appunto a presentare due coppie importanti e voi potete avere conferma o non del fatto che il vostro amore sia un amore karmico anche di un certo livello ora direi di cominciare e quindi queste due carte le lasciamo qui in generale c'è una lei e c'è un lui che andiamo a descrivere io inizierò dalla variante gialla mettiamo qui in un angolo vediamo un pochino che cosa viene fuori per lui e per lei così fate sapere se questo tipo di varianti di può piacere magari in futuro facciamo degli interattivi con domande diverse ma mantenendo questa struttura un lui e una lei lei in questa prima variante è una dama misteriosa si è fatta subito nascondere dalle carte molto timida ha detto non voglio essere descritta non è che tra di voi c'è qualcuno che ha paura sta vedendo il video però ha timore di sapere o non sapere che il suo grande amore è o non è karmico sono interattivi generali ovviamente non stiamo parlando di verità inconfutabili stiamo facendo due chiacchiere in maniera profonda e sentita però ovviamente prendetele sempre come un qualcosa che lascia il tempo che trova nella misura in cui se vi apre spunti di riflessione beh qualcosa di buono ha lasciato altrimenti è stato un intrattenimento piacevole tra di noi lui è stanza notizia sorprendente abbiamo una persona molto chiusa o all'apparenza molto chiusa perché poi dentro di sé c'è praticamente un mondo ma un mondo ricco di colori sfumature di rumori di personaggi e di personalità questo individuo è cangiante come lo sono i riflessi dell'acqua quando vengono sfiorati dai raggi del sole a seconda di come l'osservate di come vi muovete intorno a lui o di come lui si muove intorno a voi accingervi come quest'acqua quindi una persona che quando vuole sa essere anche molto presente e penetrante però se non sapete notare diventa un qualcosa di pericoloso perché poi è difficile venirne fuori da questa relazione con quest'uomo ecco questo tipo è praticamente un bello e dannato sì persona carismatica che poi tra l'altro è capace di sorprese improvvise e difficili da prevedere perché poi non mantiene sempre uno stesso atteggiamento non ha sempre lo stesso modo di fare cioè il suo costante modo di fare è cambiare costantemente il suo modo di fare sa sorprendere sicuramente ma allo stesso tempo vi lascia in bilico perché non potete proprio prevederne le mosse e questa persona non ama essere interrogata non vuole che si vengano poste domande dirette o che si pretenda nell'immediato della domanda anche la risposta ai suoi tempi e desidera che vengano rispettati e quando non ne vuole sapere si chiude dentro sé o proprio sparisce all'improvviso e non lo trovate più è sempre lui a farsi risentire con delle banali scuse come se nulla fosse accaduto perché lui effettivamente non vive interiormente la sofferenza il distacco o l'ansia che provoca nelle persone che a fianco quando decide di allontanarsi da queste ultime c'è e non c'è la sua sedia è perennemente un luogo di passaggio a seconda degli stati d'animo si ferma si alza va e torna e non vi avverte voi dall'altro lato volete provare a emulare un po il suo comportamento e vi mettete lì come lui sulla vostra di sedia ma c'è tanta distanza in certi momenti e voi siete alla finestra ad aspettare che questa persona si faccia vedere però arriva senza preavviso così come senza preavviso cambia amore e se ne va vi state veramente lavorando dietro questo individuo nei momenti in cui soprattutto si chiude senza dare nessun tipo di spiegazione perché poi la vostra interiorità la vostra casa quella che abitate con lo spirito ecco la vostra interiorità ne risente e quello che prima un luogo sicuro di protezione diventa una prigione questo è un individuo dai mille volti lo può essere in positivo ma lo so essere anche in negativo purtroppo è un individuo dalle rabbie improvvise dagli sfoghi improvvisi e dai silenzi che fanno più paura delle parole brutte che sa dire quando non è sereno ha lo sguardo che ti penetra come una frezza e fa male perché è quello stesso sguardo che nei momenti di dolcezza fa abbassare gli occhi di chi sta guardando dall'altra parte perché ripeto è una persona molto penetrante nel bene nel male è una persona anche molto pesante quando lo vuole essere il rischio è proprio quello di sentirsi schiacciati quando in realtà il desiderio più grande delle persone che lo hanno avvicinato probabilmente anche vostro è per una volta una singola volta sentirmi apprezzata e percepire che anche io sono utile per te non utile come un oggetto di cui si fa uso semplicemente per il proprio turnaconto ma utile nel senso che io ti do una gioia e tu mi fai capire che per alcune cose ti sono indispensabile e invece lui è comunque una persona tutta ad un pezzo da quel punto di vista non dà soddisfazione ad alcuno per quanto riguarda la sua indipendenza perché lui ci tiene con i comportamenti soprattutto arriva a dire che non ha bisogno di nessuno e dal lato questo è anche un metodo di paragone con altre esperienze che avete avuto nel passato con altre relazioni e a volte quello che voi forse per tutelarvi e per proteggervi leggete in questo comportamento è non ha bisogno di nessuno ma se alla fine torna da me allora vuol dire che anche se non me lo dice sono molto importante quest'uomo è un uomo tormentato è un uomo che quando ha quei famosi sbalzi d'umore non li ha perché siete voi la causa cioè è sì portato a volte anche a litigare in maniera piuttosto infiammata e infiammabile però è proprio mi avrebbe da dire una parola che ho sentito una volta buffa valetudinario così non attico ma non lo è a livello di razziocinio di mente lo è a livello di percezione come sente il mutare del tempo sorta di barometro lui sente il tempo e così cambia anche lui e non c'è filtro tra la sua percezione e l'esternare le conseguenze quindi comportamenti che poi conseguono da quello che sta sentendo perché i tormenti che prova sono interiori è da dentro che questo qualcosa lo tormenta lo spinge e non gli dà tranquillità quindi questo è l'individuo per la prima variante vediamo questa donna al suo fianco in questa coppia karmica com'è quella famosa donna che sta alla finestra che sta in attesa di qualcuno che viaggia che va via che dovrebbe tornare che tra l'altro non ha neanche promesso di tornare è nel suo cuore nel suo desiderio che questo qualcuno torni e questo qualcuno è proprio lì come quel mare quell'acqua di cui parlavamo che tutto circonda quando questo tutto decide di mettere il piede in esso e di addentrarsi nella conoscenza è l'abbraccio che ti scalda e si fonda in te ed è anche però la mano di chi ti toglie il respiro stringendo il tuo collo metaforicamente parlando perché come un nodo in gola la tristezza di questa donna in alcuni momenti ecco blocca tutto, blocca le parole, fa passare la fame, fa passare il sonno, il riposo e lascia la donna in perenne attesa in perenne attesa anche in una posizione scomoda dal punto di vista sociale e anche relazionale perché se si tratta ad esempio di una situazione dove c'è un marito o una famiglia o qualcosa ecco non ci si può neppure concedere un giusto dolore o la rabbia o il malessere perché non si può far capire nulla e quindi anche qui siete speculari però in questo la vita avviene tutta all'interno il dolore come il malessere ecco hanno vita all'interno del corpo di questi due individui ma non solo del corpo fisico della personalità, della psicologia, della sensibilità di queste persone abbiamo quindi una donna mite, una donna amorevole, una donna fragile una donna spesso anche debole ma che ha ugualmente una grande forza interiore con la quale riesce a controbilanciare i momenti di debolezza ed è la donna che vorrebbe andarsene prima di essere abbandonata cioè una persona che vorrebbe avere il coraggio quando già nell'area si chiuda al cambiamento di stato d'animo di quest'uomo di riuscire a chiudere lei per prima di essere lei a voltare le spalle cosa che però poi non riesce a fare la donna è una donna che nella vita ha dovuto sperimentare tante volte queste situazioni in cui l'abbandono la fa da principe a volte ci sono stati veri e propri lutti e sofferenze a volte ci sono state situazioni pesanti nella famiglia d'origine una persona che si sente molto sola ha una malinconia di fondo la malinconia dei poeti maledetti abbiamo il bello del dannato e la poetessa maledetta che forse scrive anche che forse dipinge che forse ha una qualche abilità a livello artistico è la persona che chiederebbe scusa per prima anche quando non ha colpe proprio perché soffre tanto l'essere lasciata lì in attesa l'essere abbandonata l'essere presa nei momenti in cui fa piacere è considerata forse la cosa più bella che c'è al mondo e poi ignorata totalmente ed è una donna però per quanto debole in alcuni momenti quelli in cui un pochino si sommano tutte le sofferenze e che la piegano anche un po' ecco nel restante nel tempo che resta è una donna capace di non far trapelare nulla dal suo sguardo dal suo volto dal suo comportamento è una donna innamorata è una donna che spera in un futuro con quest'uomo è una donna che forse in questo momento è anche impegnata in un amore che in fondo è stato solamente un contratto firmato ma non non la prende così come la passione per colui di cui stiamo parlando per lui di cui stiamo parlando per questo individuo bello e dannato e ripeto questa ragazza questa donna porta nel suo cuore delle sofferenze ed una malinconia di cui non ha mai parlato con nessuno probabilmente non ne ha mai parlato neanche con lui solo che nei momenti di gioia quando le cose hanno funzionato tra i due ecco questa malinconia questa voce questo tormento nel suo animo si è quietato e lei lo sa e questa è la cosa che più di tutte la tormenta adesso è la certezza il sapere in modo preciso e matematico che quella persona le dà l'equilibrio che non riesce a trovare in nessuna situazione o almeno che non è riuscita mai a trovare fino adesso non lo so fanciulli e fanciulle se queste descrizioni corrispondono al vostro amore e se il vostro amore corrisponde a questa coppia karmica vediamo con la seconda coppia karmica come è lui e come è lei ora iniziamo da lei nella prima abbiamo iniziato da lui chi è lui chi è lei una brava persona una persona empatica amorevole portata per la condivisione la collaborazione è sempre il sorriso una persona ottimista potrebbe essere un segno di fuoco un segno d'aria o avere comunque dei valori importanti in questi ultimi è una persona che non si nega mai chi ascolta è una persona a volte ingenua perché ma ingenuo non vuol dire assolutamente stupido o sciocco sia chiaro perché magari a volte può sembrare sinonimo ma assolutamente non lo è è una persona ingenua nella misura in cui dà credito a tutte le persone che la contattano che la cercano e considera in modo serio tutto quello che gli viene che le viene detto è facile ingannarla all'inizio sì proprio perché lei agisce come se le persone che le si parano dinanzi abbiano una sorta di etica ecco a livello umano a livello anche logico a livello comunicativo ma non è sempre così quindi anche una persona che ha sofferto tanto perché poi alla fine le peggiori pugnalate alle spalle le ha ricevute proprio da chi conosceva meglio forse anche qualche familiare qualche amico una ragazza dall'eterna primavera sul volto ogni cosa si può risolvere se c'è un problema lei la soluzione la sa trovare la può trovare e se non riesce a trovarla si si impegnerà per trovare qualcun altro in grado di fare quello che lei non non è stata in grado di fare è forte ha una carica inesauribile ed è ben predisposta anche ai discorsi di mediazione ecco una di quelle persone che fa bene all'animo di chi la incontra lungo il suo cammino questa donna ha dovuto veramente fare la gavetta sotto tutti i punti di vista forse sul lavoro la sta ancora facendo nel senso che le sue abilità sono tali da meritare un riconoscimento maggiore di quello che ha un'entrata economica maggiore un posto migliore ma non è una di quelle persone che si mette a competere non le piace la competizione comunque non riuscirebbe a comportarsi tra gli squali come uno squalo quindi preferisce stare in un angolo e fare bene quello che le viene assegnato perché tanto qualsiasi cosa le venisse dato come incarico la farebbe con lo stesso stato d'animo con amore con passione con accettazione è una donna che se può aiutare gli altri ecco pone gli altri prima di sé e quando ha delle difficoltà raramente ne parla è difficile anche che qualcuno se ne renda conto perché è talmente brava a non far passare le sue preoccupazioni un pochino come la donna della prima variante in realtà è molto simile l'energia è molto simile che tutto quello che deve risolvere piano piano lo riesce a risolvere da sola è solo una questione di tempo non sicuramente di impegno di desiderio di volontà o di capacità non so se c'è qualche orfano in questa variante c'è proprio qualcuno che effettivamente non conosce i genitori o se c'è stato qualche problema a livello di matrimonio o figli non giunti è come se avesse interiormente deciso di diventare madre di tutte le persone che incontra di tutte le azioni che si trova a svolgere tutto viene approcciato e vissuto con la stessa identica cura proprio perché evidentemente qualcosa non deve essere andato per il verso giusto nella sua vita privata o lei come figlio o lei come genitore ma non si è lasciata incattivire dagli eventi e dalla difficoltà che è conseguita da questi eventi probabilmente si tratta anche di una donna che magari è stata lasciata dal compagno che ha visto sfumare desiderio di casa di famiglia tutto ciò in cui aveva investito ma non si è mai ribellata contro la vita contro il fato contro il destino o non ha mai scaricato sugli altri la colpa di come la sua vita sia andata e stia andando ripeto è una donna fidata vedere che carta bella amica famiglia armonia di quelle che ti consolano e di quelle persone che riescono anche a allenirti le sofferenze soprattutto quelle psicologiche questa donna potrebbe fare proprio come lavoro qualcosa che ha a che fare con la psicologia con l'ascolto oppure qualcosa che ha a che fare con la bellezza oppure un medico anche porta energie positive ma porta speranza nella vita delle persone che incontra e soprattutto le capita una cosa particolare le incontra proprio nei momenti di maggiore difficoltà persone magari sconosciute e mai più riviste nel futuro però incontrate nel momento nel profondo scoramento ecco diciamo che ha una sorta di missione che lei lo sappia o no ha una sorta di missione questa missione è proprio quella di prendersi cura del prossimo e tutti sono il suo prossimo lui chi è? e lui è anche una gran bella persona qui abbiamo un amore che probabilmente poi vediamo dalle prossime carte ha avuto la possibilità di vivere dei momenti intensi e meravigliosi un incontro casuale forse tutti e due addirittura impegnati un incontro di lavoro un incontro ad una festa conosciuti tramite amici in un'occasione particolare due persone che si sono riconosciute immediatamente cioè qui veramente abbiamo una coppia karmica al di là del fatto che sembrano questi due individui essere proprio i due personaggi delle nostre carte iniziali e qui è stato subito un far cadere tutti gli orpelli questo questo individuo ha gettato giù tutte le maschere tutte le etichette tutti i comportamenti formali che si usano normalmente quando non si conosce qualcuno ecco con questa donna sono proprio caduti naturalmente come le foglie secche quando è il momento di lasciare l'albero è stato facilissimo avvicinarsi è stato facilissimo iniziare a parlare un individuo questo che solitamente non si apre agli altri però è un individuo che deve farlo per lavoro probabilmente forse ricopre un ruolo particolare è una persona che deve proprio essere presente in occasioni specifiche ora non so potrebbe anche essere veramente tipo un politico o un artista o un poeta o uno scrittore è forse in una di queste occasioni che loro due si sono incontrati ed è una persona che deve presenziare spesso a situazioni che vedono altre persone intorno a lui com'è quest'uomo questo uomo è molto simile come lo è questa variante alla variante numero uno però nello specifico quest'uomo forse ha poche occasioni per vivere la serenità della propria casa ha poche occasioni per vivere la quotidianità quella normale quella con la porta chiusa nessuno che ti bussa nessuno che ti telefona nessuno che ti cerca nessun evento importante stare a casa in pigiama in tuta e pantofone guardare la tv affrontare le difficoltà che si presentano normalmente in una famiglia avere grattacapi che hanno tutti il dover pagare una bolletta la vita che fa è una vita di un certo livello che da tanto tempo lo ha completamente allontanato da quel livello di quotidianità che appartiene un pochino a tutti noi un po' la maggior parte delle persone che stanno seguendo le cose banali le cose anche frivole le cose piccole e questa persona ne sente la mancanza perché lui forse è nato in un contesto semplice e ha avuto questa grande carriera questo espo che l'ha portato a livelli in cui forse lui decide per altri ma per la sua vita privata sono gli altri decidere per lui e di questa cosa ne soffre molto probabilmente questo incontro tra l'altro è solo una conferma che sia carmico importante lo sapete perché questa donna è stato proprio quel balsamo che ha un po' lignito le sofferenze di quest'uomo un uomo impegnato e un uomo che non può assolutamente in questo momento fuggire dagli impegni che ha anche lui bello perché veramente calcolo di probabilità di prendere le carte della prima variante è una cosa meravigliosa è un uomo che sta aspettando da una vita di poter dire addio alle cose che gli vengono imposte vorrebbe nascondersi e quelle poche volte che riesce a fuggire dai riflettori si guarda intorno deve stare attento sta sempre un po' di vedetta perché ha paura che qualcuno possa piombare all'improvviso lì dove lui è lo possa riportare ai suoi doveri e forse questa situazione per questo viene in maniera così diretta nella descrizione del personaggio che più che parlare del personaggio ci dà informazioni su qualcosa che ha vissuto e fatto e visto questo personaggio forse tra queste due persone i pochi incontri che ci sono stati sono stati incontri proprio strappati alla quotidianità gli impegni di entrambi è una coppia di amanti è una coppia che si deve nascondere è una coppia che non deve farsi scoprire è una coppia che stanno cioè tutte e due stanno la coppia sta in vedetta osserva devono veramente fare di tutto per potersi concedere un attimo di serenità e abbiamo due persone che quando non sono l'una al fianco dell'altra si mancano terribilmente e funzionano proprio in maniera perfetta si incastrano nei pregi e nei difetti in maniera perfetta e vi dico anche che al di là delle complicazioni che la vita porta forse questo amore non è un amore fatto di litigi cioè se ci sono delle difficoltà sono veramente tecniche ma le difficoltà non sono nello scontro tra i caratteri i caratteri tra queste due persone vanno perfettamente in simbiosi e si si completano e loro lo sanno non so fatemi sapere se questo piccolo interattivo che vi regalo è utile e se vi rispecchiate in esso se vi è piaciuto anche il mazzetto di carte piano piano li utilizzeremo tutti a breve arriverà anche quel meraviglioso mazzo di cui le foto sono diciamo state caricate su instagram le carte del manzoni un giorno faremo anche un sito con tutte le informazioni sui mazzetti appartenenti a tarocchi viaggio alchemico un abbraccio